Il progetto è un progetto che ha lo scopo di disegnare, di realizzare nuove tecnologie, tecnologie che oggi non ci sono, software, per dare potere alle persone di controllare i propri dati. Questo verrà fatto utilizzando altre tecnologie che ci sono già, che verranno implementate, come per esempio le tecnologie di registro distribuito, le tecnologie che oggi sono utilizzate per esempio per Bitcoin. Il ruolo di Nexa in questo progetto è quello di contribuire al lavoro di analisi legale, quindi analizzando i profili sia di diritto d'autore, sia di privacy, sia gli altri profili legali che emergeranno nel disegno di questa nuova tecnologia.